Io fossi in voi, dagli etf short girarei alla larga. Ben trovati, lo chiamavano Saver. Ogni martedì pillole di educazione finanziaria con risorsa omaggio che ti invito a scaricare che trovi nel link qui sotto. Si tratta di un corso gratuito chiamato Welcome che ti insegnerà di investire in maniera autonoma e consapevole. Perché sono così lapidario? Ma perché da un lato gli etf sono una delle strategie portanti dell'investimento consapevole ma dall'altro presentano una serie di criticità e vengono fuori tipicamente nei momenti di crisi, quando la gente vuole andare short sul mercato per trarne un guadagno o quantomeno limitare le perdite sulle posizioni attive. L'etf short presenta due grossi problemi. Problema numero uno è speculativo ed è uno strumento di breve periodo, di conseguenza se voi puntate su un ribasso e il ribasso non si verifica nel breve, perdete dei soldi. Punto numero due è costoso. Costoso sia perché c'è un effetto compounding, ovvero l'etf short non replica in maniera opposta all'andamento di un indice ma clona la performance cambiata di segno. In termini semplici, se il sottostante fa più 5 e poi meno 5% non torna a livello iniziale. Quindi voi vi aspettate che succeda ma non accade. E l'altra cosa è che il costo è importante perché l'etf short ha anche dei oneri legati al prestito titoli. Difatti gli investitori professionisti non utilizzano gli etf short per coprire le proprie posizioni ma adottano strategie di hedging sui derivati. Se poi l'etf short è anche a leva, peggio ancora. In questo caso amplificate ulteriormente le perdite nel caso in cui il mercato dovesse strappare all'improvviso. Senza contare che questi strumenti vengono comprati nei momenti di particolare pessimismo quando magari una fetta importante del ribasso c'è già stata e quindi li comperate e andate subito in perdita o addirittura l'azzeramento del capitale come accadde nel 2020 con i wisdom tree sul petrolio che si azzerarono completamente. Scelte consapevoli, semplici e i vostri portafogli vi ringrazieranno. A martedì!